Come sarà la società digitale del prossimo futuro e come la tecnologia salverà il pianeta? Per quanto riguarda salvare il pianeta, credo che il modo in cui lo possa fare la tecnologia è sviluppando metodi più efficienti di eliminare l'onderia carbonica dall'atmosfera per ridurre l'effetto serra. Questo dovrebbe essere, o meglio sarebbe, il modo migliore per la tecnologia di avere un impatto decisivo dal punto di vista della salvaguardia del pianeta. Qual è lo stato di salute dei ghiacciai attualmente? In Groenlandia per esempio ci stanno sciogliendo i ghiacci in maniera estremamente rapida e questa velocità è davvero senza precedenti. Così come anche gli altri ghiacciai del mondo. Quindi tutti i sistemi di ghiacciai del mondo attualmente si stanno sciogliendo, non sono in ottime condizioni sicuramente. Secondo lei esiste o esisterà una tecnologia in grado di invertire questa tendenza dello scioglimento dei ghiacci? No, questo è molto difficile. No, questo è molto difficile perché anche se riducessimo il riscaldamento dell'atmosfera i ghiacciai e le calotte si sciolgono sulla base dei cambiamenti sul lungo periodo. Quindi ci vorrebbe davvero molto tempo per invertire questa tendenza. Quindi sicuramente nel prossimo futuro dovremo fare i conti con un innalzamento del livello dei mari. Secondo lei quali possono essere le soluzioni per cercare di fermare questo cambiamento climatico? Si genera il problema emettendo anidride carbonica e si può risolvere questo problema solo abbassando le emissioni, passando alle energie rinnovabili e vivendo in una maniera un po' più semplice. Questo non risolve il problema del clima ma lo rende un po' meno grave perché riduce la velocità di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi siamo noi in realtà il problema. Soprattutto quando ci mettiamo in testa di comprare i SUV o cose del genere. Soprattutto quando ci mettiamo in testa di un'atmosfera,